La nuova 208 GTI by Peugeot Sport è sviluppata dall'atelier che cura le vetture da competizione per la Casa del Leone. Tra questi è anche la plurivittoriosa 3008DKR che ha vinto quest'anno per la terza volta constitutiva la Dakar. La piccola 208 GTI by Peugeot Sport è dotata di un motore THP da 1,6 litri in grado di erogare ben 208 CV e 300 Nm di coppia. Viene abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti ma soprattutto nella versione by Peugeot Sport ad un differenziale autobloccante meccanico Torsen, un elemento fondamentale per mettere a terra così tanti cavalli e poter beneficiare di una guida davvero appagante. La 208 GTI by Peugeot Sport è dotata anche di certi da 18 pollici ed un impianto frenante ad altissime prestazioni con grandi dischi all'avantreno. Un setup tecnico in grado di esaltare quello che è veramente il DNA sportivo di questa piccola 208. La nuova 208 GTI by Peugeot Sport è oggi disponibile anche nella nuova scolorazione Coupe French che abbina il blue magnetic al nero opaco con un taglionetto a metà carrozzeria. Una vettura sicuramente in grado di appagare il guidatore più smaliziato ma anche di essere utilizzata ogni giorno per qualunque tipo di percorso. Una vettura veramente molto sportiva.